buon di buona gente sono il vostro luigi in arte lusio anzi professor lusio e benvenuti a questa nuova lezione di storia lezione di storia che in realtà sarebbe dovuta essere una semplice recensione però visto il libro letto visto il suo argomento visto il suo tema a mano a mano che andava avanti con la lettura ho detto ma più che una recensione qua mi esce una lezione di storia oggi vi parlo infatti di una storia che penso che quasi tutti conoscerete chi più chi meno anche perché è molto famosa ne hanno tratto un bel po di film uno abbastanza recente poi c'è una bibliografia dei romani c'è una bibliografia piuttosto ampia su questo argomento io mi sono basato principalmente su quest'unica lettura che ho fatto poi qualche approfondimento qui e là per prepararmi ulteriormente e quindi ecco qua che oggi vi vengo a parlare di una storia molto affascinante molto particolare e dai tratti ben un po romantici beh ha sempre prevalso il lato romantico di questa storia ma per me invece proprio più una questione di rivoluzione sì il tema rivoluto la parola rivoluzione ci sta benissimo per questa storia ed ecco da qui il titolo il re folle la principessa intellettuale e il dottore rivoluzionario il medico rivoluzionario oggi parliamo della storia del re folle di danimarca no non amleto ma cristiano settimo di danimarca della sua sposa la molto bella la molto affascinante e soprattutto molto colta e intelligente carolina matilde di hanover e di johan friedrich strusse stransi 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 e ragazzi mi fermo qui perché ho paura ho seriamente paura di rischiare di dire una brutta parola facciamo che scusate ma i nomi nordici nomi teutonici sono difficoltosi non so questo come si pronunci facciamo che lo chiamo stransi stransi il dottor johan friedrich stransi e del triangolo che il triangolo fatto un po di amore un po di odio un po di di connubio intellettuale ideologico eccetera che unì queste tre figure molto particolari figure alle quali poi va a sommarsi la 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 cattiva delle storie classica proprio la cattiva classica per antonomasia la matrigna cattiva sì così era l'ho detta bene l'ho detta benissimo è cattiva con una t così non devo nemmeno pagare i copyright per i vari autori di fiabe quindi si è la storia di quattro personaggi ne ho inseriti solo tre nel titolo perché se no è troppo lungo comunque bando alle ciance fine dell'introduzione e iniziamo a parlarne allora siamo all'inizio della seconda metà del settecento nel regno di danimarca regno che contempla non solo il p la piccola porzione di danimarca ma anche il regno della norvegia e varie colonie sparse in africa in america quindi un regno molto più esteso di quanto uno non voglia immaginare e la storia parte dal giovane erede al trono cristiano ancora un principe figlio del re federico quinto e della sua prima moglie luisa di hannover la figlia di re giorgio secondo della d'inghilterra tenete carta e penna perché per quanto riguarda nomi e relazioni familiari è parecchio un casino allora cosa accadde a questo giovane rampollo della grande nobiltà danese beh quello di rimanere subito orfano di madre e il padre ebbe la felicissima idea di risposarsi con giuliana maria di brunswick linenburg che per comodità chiameremo semplicemente con la matrigna cattiva la matrigna cattiva ecco quando parleremo di lei di giuliana maria io parlerò sempre della matrigna cattiva perché ci sta e capirete bene perché dalla matrigna cattiva il caro vecchio federico quinto ebbe un altro figlio maschio quando in un'epoca in cui proprio quando uno vuole un figlio maschio da già da un solo matrimonio deve farsi un sacco di croci lui invece due mogli due figli maschi fatto jackpot proprio figlio maschio che viva la fantasia si chiamò federico come il padre ma noi chiamere lo chiameremo semplicemente frideric per evitare confusioni con altri federico che compariranno nel corso della storia allora quando il piccolo cristiano era un giovane adolescente di 17 anni il padre morì prematuramente lasciando il giovane principe con erede della della corona di danimarca quindi senza passare per la reggenza cristiano divenne re a soli 17 anni c'è da dire che la sua salita al trono fu vista con un po di dubbi perché il piccolo il giovane non è più piccolo il giovane cristiano aveva dimostrato già dai dalla prima adolescenza dagli ultimi anni dell'infanzia piccoli scatti nervosi che potevano anche arrivare a gravi episodi di turbe psichiche di vere e proprie episodi schizofrenici però a questi si alternavano anche momenti di piena lucidità nella quale cristiano dimostrava di essere un ragazzo non solo sveglio e intelligente ma anche politicamente accorto diciamo che sarebbe stato un gran ottimo re se non fosse stato per quei suoi momenti di sballo totale mentale e ad alitare sul collo del giovane c'era la matrigna cattiva che ovviamente in quanto matrigna cattiva faceva la matrigna cattiva ovvero sperare magari che il figliastro declinasse mentalmente così da permettere a suo figlio il principe frederick di poter diventare re al posto del fratellastro ma nel mentre cristiano non dava problemi di sorta e anzi proprio nell'anno in cui salì al trono si organizzò il matrimonio con una sua pugina ovvero carolina matilde di annover quindi della stessa famiglia della defunta madre di cristiano creale questa carolina matilde all'epoca aveva solo 15 anni e il matrimonio tra i due venne praticamente velocizzato in tempo record proprio perché si temeva che scoprire che magari se avessero preso cristiano in uno dei suoi momenti più alticci più altarelli avrebbero diciamo rischiato di far saltare il matrimonio probabilmente e infatti col senno di poi nonostante le premesse fossero state il più soddisfacenti possibili si vede che i primi incontri i primi tempi in cui cristiano e carolina avevano potuto conoscersi era uno di quei periodi in cui cristiano era preso a bene come si dice dalle mie parti salvo poi dopo il loro matrimonio dopo consumazione tutto quanto cristiano già diede prova un poco della sua del suo carattere piuttosto altalenante e soprattutto per per il fatto che lui di base pur provando un certo affetto per la giovane cugina barra moglie carolina ammise proprio di di non poterla amare proprio perché non sentiva quell'amore che aveva dovuto esserci tra tra due coniugi ma ovviamente siamo sempre nell'epoca in cui matrimoni nei matrimoni erano questioni di alleanze politiche questioni economiche l'amore centrava veramente poco certo se veniva tanto di guadagnato per la coppia in questo caso però purtroppo non era avvenuto e per la giovane carolina inizia un periodo piuttosto difficoltoso anche perché sebbene cristiano fosse molto intelligente non aveva molto piacere nel conversare con con la moglie che di per sé anche lei era molto molto intelligente molto colta era una grande ammiratrice dei nuovi filosofi illuministi che stavano spopolando all'epoca per tutti i regni d'europa spannati dalla dalla francia quindi i vari liderò volter rousseau d'alambert e che si spargevano a macchia d'olio lungo tutta europa facendo già un po tremare qualche qualche trono qui e là e magari invece aiutando qualche trono a avviarsi sulla via dell'illuminismo sulla via di un di un regno più illuminato e anche il regno di danimarca sembrava sebbene fosse molto conservatore da questo punto di vista ebbe l'opportunità di diventare forse lo stato più illuminato d'europa questo quando entrò in scena un medico tedesco joan friedrich struensi che venne chiamato affinché potesse tenere sotto controllo ed eventualmente curare in maniera definitiva la salute la cagionevole salute mentale di cristiano che dire il medico questo medico questo dottor struensi fu veramente una manna dal cielo tanto per cristiano quanto per carolina infatti fu proprio struensi a convincere cristiano a non a non diciamo non dico maltrattare ma a non a non dare troppo per scontato la giovane regina ma anzi a trattarla come un marito avrebbe dovuto trattare una moglie quindi non sbattendola in faccia le sue amanti le sue favorite e dandole maggior rispetto che aveva il rispetto che aveva e il dottor struensi riuscì a guadagnarsi un posto di prestigio all'interno della corte danese quando riuscì a guarire il piccolo principe ereditario il figlio primogenito di cristiano e di carolina ovvero il principe federico guarendolo dal vaiolo praticandogli uno praticandogli appunto quello che era uno dei primi esempi di di vaccino contro il vaiolo cosa all'epoca ancora molto discussa ma che ebbe sui frutti infatti il piccolo principe federico guarì questo unito al favore ottenuto dal re garantì al dottor struensi prima il titolo di di archiatra ovvero medico di corte ufficiale e in più diventò su diventò in poco tempo maître de requête ovvero consigliere privato del re quindi ragazzi immaginate proprio una una scalata vertiginosa un un giovane un giovane medico tedesco quindi addirittura straniero che riesce a farsi l'arco in poco tempo nelle tra le più alte cariche della corte danese e e già dall'inizio la presenza di struensi risultò piuttosto fastidiosa per molti esponenti della corte in particolare della immancabile matrigna cattiva e di suo figlio che ben diciamocelo chiaramente il principe frideric era frideric era un semplice burattino nelle mani della della sua di sua madre della regina madre ma prima di arrivare a questi due continuiamo a parlare dell'ascesa del dottor struensi che più potere acquisiva più però la salute mentale del re andava declinando infatti purtroppo sebbene cristiano che adesso è a cristiano settimo ovviamente sebbene cristiano alternasse sempre momenti di lucidità in momenti di schizofrenia a momenti di lucidità tali momenti di lucidità risultavano sempre più sporadici sebbene non stessero scomparendo ma la costante presenza dei suoi periodi le sue fasi schizofreniche rendevano quasi impossibile per lui governare il regno come sarebbe stato giusto di conseguenza lui si limitò a derogare sempre molte delle sue decisioni allo stesso struensi che da uomo illuminato qual era decise di approfittarne per iniziare già a varare certe leggi che avrebbero potuto rendere la danimarca uno dei primi paesi più illuminati d'europa come già avevo detto quindi varando delle leggi che permettevano che favorivano la possibilità di avere un'istruzione adeguata e superiore anche alle classi più povere del regno così da permettere anche a persone dagli strati più bassi di accedere agli studi universitari di conseguenza quindi a preparazioni anche nell'ambito della medicina e della giurisprudenza varò anche una legge in cui ci si richiedeva che anche i nobili iniziassero a parlare la lingua danese la lingua che era definita solo una lingua del popolo quindi non all'altezza dei nobili che parlavano per lo più in tedesco in francese o in latino o in inglese a seconda dei casi e soprattutto abolire la schiavitù nelle colonie danesi in america e in africa cosa che ovviamente come tutte le altre decisioni si scontrò con lo sfavore totale della nobiltà che avrebbe visto in questo modo ridotto di molto il potere che potevano avere con questo assottigliamento dei confini tra le varie classi sociali considerate che siamo negli anni settanta del settecento allo scoppio della rivoluzione francese mancavano ancora vent'anni quindi immaginate proprio qua in danimarca grazie al dottor stu heinz si stava quasi preparando una rivoluzione illuministica illuminista con venti con vent'anni di anticipo e soprattutto senza nemmeno spargere una sola goccia di sangue purtroppo però il rifiuto della corte danese della nobiltà capeggiata dalla regina dalla matrigna cattiva avrebbe invece causato una vera e propria ondata di sangue nel mentre intanto però che struenzi si dava da fare cercava di migliorare il regno di danimarca creando invece soltanto le premesse per una sua possibile caduta scoppiò una scintilla che forse era meglio se forse era meglio se non non scoccava ovvero la regina carolina e il dottor stuense si innamorarono complice anche il fatto che dopo essere salito di grado i suoi appartamenti a corte erano praticamente al piano superiore sotto gli appartamenti della regina sembra che a quanto pare a decidere la questa a dare a disposizione per questi alloggi per il dottor stuense ci fosse stata anche la longa manus della regina cattiva che volendo già favorire la caduta di quello che già molti dei nobili definivano il tiranno i nobili che definivano il tiranno quel medico venuto dal nulla che stava cercando di dare più diritti ai poveri di eliminare la schiavitù di dare un'istruzione al popolo mamma mia sì veramente un criminale per carità oddio mio bene quindi dicevamo a decidere dove dovessi alloggiare il nuovo consigliere privato quindi proprio a un tiro di schioppo dalle stanze dagli appartamenti privati della regina carolina forse c'era stata proprio la decisione della madrigna cattiva che magari sperava appunto che tra i due iniziasse o magari ci fosse anche solo il sentore il sospetto di un legame adulterino in modo così da favorire la caduta di quell'essere molto scomodo come fu e come non fu alla fine sembra che più che un sospetto furono fatti concreti infatti tra struense e carolina ci fu un amore e non una cosa platonica ma una vera e propria capitemi vi basti solo sapere che dopo un poco la regina carolina scoprì di essere incinta e nove mesi dopo nacque una figlia che venne chiamata luisa augusta ufficialmente re cristiano la riconobbe come figlia sua ma già all'epoca si vociferava che in realtà non fosse la principessa luisa non fosse frutta del regal seme del re ma bensì del del medico rivoluzionario struense e oggi gli storici sono concordi con questo anche perché basta andare a vedere un ritratto della giovane della principessa luisa augusta metterla di fronte di fianco al ritratto del dottor struense e vedere è facile vedere quanto i due siano praticamente due gocce d'acqua quindi c'è poco da da dire da ipotizzare che si dice si ipotizza no a quanto pare proprio luisa augusta è la figlia di del dottor struense e come dire quindi possiamo già immaginare come si andò a concludere la la vicenda e infatti un anno dopo la nascita della principessa luisa la matrigna cattiva decise di ricorrere di nuovo alle maniere forti quindi organizzando più concretamente una congiura di palazzo lei ovviamente nella mandando avanti quel quel pupazzetto di suo figlio il principe frederick denunciarono assieme agli altri nobili conservatori attaccati ai loro quattrimi alle loro ricchezze che si erano messi contro il dottor struense lo accusarono quest'ultimo di fronte al re di aver commesso adulterio con la regina fortuna per i congiurati vollero che cristiano venne preso proprio in un momento in cui stava nei suoi momenti di poca lucidità mentale e tenete a mente bene questo dettaglio perché non l'ho detto a caso e infatti a cristiano settimo presero i cinque minuti per questo tradimento perpetrato da quello che lui riteneva non solo il suo consigliere personale il suo consigliere più fidato ma anche il suo unico e migliore amico e della sua consorte e li fece arrestare entrambi carolina matilde essendo comunque sorella di quella attuale dell'attuale re d'inghilterra si scansò sia il patibolo e anche la prigione però venne condannata all'esilio quindi fu costretta a venire allontanata dai due figli e dal marito e non pote nemmeno ritornare in inghilterra come lei avrebbe voluto ma venne esiliata nel castello di zelle al melanover quindi in germania e mentre invece per il povero struensi essendo borghese di nascita essendo essendo si guadagnato un bel po di nemici a corte venne giustiziato nel peggiore dei modi venne prima condannato affinché confessasse l'adulterio con la regina e fu decapitato fu condannato a morte e decapitato il suo corpo venne squartato ed esposto al pubblico nel mentre che struensi veniva torturato e processato e carolina veniva separata dai suoi figli e mandata in esilio cristiano settimo era stato relegato da parte dalla dalla matrigna cattiva e dal figlio di quest'ultima che il principe frideric che prese il controllo come reggente avendo dichiarato il re cristiano settimo inadeguato a regnare visto il suo stato di salute mentale e dal momento che il principe federico era ancora un bambino fu suo zio il principe frederic a prendere la reggenza in attesa che il principe diventa raggiungesse la maggiore età nel mentre quindi cristiano settimo venne rinchiuso nei suoi appartamenti impedendogli qualunque possibilità di uscire era quindi letteralmente prigioniero perché appunto i due bei bei immobili qua la regina cattiva il fratellastro e il perfido fratellastro temevano che che passata la fase schizofrenica cristiano decidesse ritornato lucido mentalmente di ritornare a più miti consigli e infatti è giunto fino a noi un un uno schizzo un disegno fatto da di cristiano fatto di pugno da cristiano con il profilo di struensi e di un suo assistente che venne giustiziato assieme a lui con la scritta avrei voluto salvarli tutto di pugno di cristiano e il fatto che la condanna a morte del dottor struensi non non portò la firma del re ma direttamente del reggente frideric possiamo ben intendere che cristiano venne tenuto all'oscuro fino all'ultimo degli esiti del processo quindi molto probabilmente sia l'esilio della regina carolina sia la condanna a morte di struensi fu fatto senza richiedere il suo consiglio quindi venne tenuto all'oscuro di tutto e così il tenta questo tentativo di una rivoluzione illuminata illuminista voluta da un giovane medico tedesco che sperava magari di rendere la danimarca il primo paese il primo regno veramente illuminato d'europa andò a concludersi in maniera tragica e tutte le riforme che lui aveva emanato vennero totalmente annullate dal nuovo governo ultraconservatore voluto dalla presente sempre nell'ombra regina cattiva ironia della sorte a sostituire il borghese il povero medico struense il non nobile fu chiamato un altro borghese che guarda caso di mestiere faceva l'impresario di pompe funebri manco a dirlo però e adesso e quindi adesso la la matrigna cattiva e il perfido fratellastro avevano quindi preso il potere ma il loro era un potere non ufficiale era di facciata la loro era una regenza fino alla maggior età dell'erede al trono legittimo ovvero il piccolo principe federico ovviamente sperare che anche lui fosse pazzo come il padre era sperare troppo infatti federico il piccolo principe federico era molto maturo per la sua età all'epoca doveva avere sui 13 13 14 anni era molto intelligente molto colto già quando era in vita il dottor struense aveva si era preoccupato che ricevesse anche il picco anche lui un'educazione illuminata in modo che portasse avanti eventualmente queste riforme della piena epoca illuminista e sebbene con la caduta in disgrazia di struense l'esilio della madre e la prigionia forzata del padre sebbene il piccolo principe venne venne affidato alle cure di persone che dovevano diciamo togliergli ogni briciola d'affetto e che dovevano crescerlo nella maniera più rigida e ferrea e militaresca possibile il piccolo federico fu abbastanza fortunato da incorrere nella presenza di di figure fossero esse nutrici o balie o istitutori che si affeziona ebbero modo di affezionarsi a lui e che conti che lo sostennero e continuarono a istruirlo alla vecchia maniera ovvero secondo i dettami illuministici del dottor struense alla fine grazie a questi vari espedienti quando iniziò a raggiungere la maggiore età a mano a mano che cresceva voglio dire il piccolo principe riuscì a riavvicinarsi anche al padre tenuto sempre il relegato nelle nelle sue istanze avrebbe riuscì anche a riunirsi con la sua sorellina la piccola principessa luisa i due principi avrebbe i due piccoli principi avrebbero voluto anche ricongiungersi magari anche in una visita privata con la madre e riuscirono anche a visitarla una sola volta ma quando venne preparata una seconda riunione di famiglia la povera carolina matilde che all'epoca aveva solo 23 anni contrasse la scarlattina e morì sappiamo tutti quanti che la scarlattina è quel tipo di malattie infantili che se presi in età adulta possono avere conseguenze più gravi e infatti la povera carolina morì prematuramente lasciando un vuoto nel cuore dei due piccoli principi che già erano stati privati una volta della madre e adesso se ne vedevano se ne vedevano privati definitivamente intanto che cresceva il piccolo principe federico fece i suoi insegnamenti del dottor struense incentivati in questo anche dal padre da cristiano settimo che sebbene non brillasse più per autonomia mentale rimaneva comunque sempre presente a se stesso in quei rari momenti raggiunta poi la maggiore età iniziò a farsi sentire sempre più il fatto la il peso della sua delle sue idee molto più illuministe in netto contrasto con quelle più conservatrici dello zio reggente e della nonna la matrigna cattiva che cercarono in tutti i modi di arginare un problema che sapevano sempre più pressante uno qual è la paura più grande di chi prende il potere con un colpo di mano il timore di fare la stessa fine e forse fu anche per questo che i due non tentarono mai di mettersi apertamente contro il piccolo principe perché sapevano bene che sarebbe conveniva di più mantenere i rapporti più più distesi possibili ma ovviamente quando federico raggiunse la maggiore età e quindi non aveva più bisogno della regenza decise di togliersi un bel po' di sassolini dalle scarpe di conseguenza rovesciò grazie al sostegno dell'area più liberale del del suo del consiglio della corte danese rovesciò la regenza del principe frideric e della matrigna cattiva e annullò completamente il loro governo ultraconservatore la matrigna cattiva e il perfido fratellastro vennero non subirono alcuna ripercussione violenta per quanto avevano fatto nei confronti della defunta regina carolina e dell'ormai anziano cristiano settimo ma vennero gentilmente invitati a ritirarsi nelle loro stanze e a farsi sentire il meno possibile e gli andò veramente da di culo proprio per dirla francamente e così iniziò la regenza di federico che per tutto il tempo che visse suo padre cristiano iniziò a riportare avanti le riforme che erano state già prese già volute a suo tempo dal defunto dottor struense e alla morte di cristiano settimo federico salì al trono con il nome di federico quinto e sotto il suo regno fu e il suo fu uno dei regni più uno dei primi regni veramente illuminati d'europa durante quando ci fu poi lo scoppio della rivoluzione francese la danimarca fu uno dei pochi regni che scelse di rimanere neutrali per non dover scontrarsi contro quello che quelli che erano un po gli ideali che lo stesso federico quinto auspicava per il resto d'europa certo non in termini nei termini violenti in cui si stava tenendo in francia ma non vuole nemmeno inimicarsi gli altri regni più conservatori che fecero lega comune contro la rivoluzione purtroppo quando poi ci furono le guerre napoleoniche federico si vide costretto a ritirare molti di quelle di quelle leggi di quelle leggi liberali che lui stesso aveva promulgato e purtroppo in quel frangente la danimarca si vide privata del regno di norvegia e c'è da dire quindi che quello che poteva essere un ottimo inizio per un regno illuminato andò a scontrarsi con la dura e cruda realtà di quel tempo quindi tra una la rivoluzione francese che purtroppo diede la il mostrò il volto peggiore di quello che voleva essere l'epoca dei lumi poi con l'avanzare di napoleone che rinnegando quelle che dovevano essere i principi di libertà fratellanza e uguaglianza diede inizio all'impero napoleonico praticamente la cosa peggiore di una monarchia è solo un impero che cerca di accentrarsi quante più cose possibili quante più terre possibili scusate se incestico con le parole alla fine federico quinto morì senza figli cioè ebbe dei figli ma a raggiungere l'età adulta furono solo due figlie femmine e quindi a venire designato come suo erede giusto per chiudere il cerchio fu suo cugino il figlio dell'ex reggente il principe frederick che quindi in calcio d'angolo potrei avere almeno la soddisfazione di sapere che suo figlio almeno salì al trono di danimarca un trono però ormai impoverito dalla mancanza del regno di norvegia e che alla fine era ritornato al punto di partenza che dire ragazzi ho voluto spingermi oltre quindi non trattare soltanto la storia del triangolo tra cristiano carolina il dottor struense ma sentivo la necessità anche di parlare di quello che avvenne dopo la morte di struense quindi la cattività di cristiano il dominio della matrigna cattiva e la formazione del piccolo principe federico quinto che risulta un po se non consideriamo l'ultima parte finale come il compimento di quello che erano stati tentativi di cambiamento politico del dottor del medico tedesco bene passiamo adesso a la parte bibliografica visto che ormai la storia è conclusa allora come vi ho detto questo doveva essere più una recensione piuttosto che una lezione di storia ma come vi ho detto a inizio video più andava avanti nella lettura più ho capito che qui ne usciva fuori più una lezione di storia che una recensione per cui parlando proprio della questione bibliografica vi dico già su cui il testo su cui mi sono basato ovvero c'è un repazzo in danimarca di dario foe un testo a metà tra lo storico e il romanzo buffonesco in cui dario foe il grande celebre attore drammaturgo teatrale racconta in chiave molto comica quasi la ps teatrale la vicenda di non solo di cristiano appunto il repazzo di danimarca di caroline del dottor struensi e anche del piccolo principe federico ma da anche un ampio reso conto di quello che era la danimarca dell'epoca e degli effetti che ebbe sulla sua economia e sul suo apparato socio socio politico economico i tentativi di di riforma di struense e successivamente di federico quindi federico quinto allora come lettura mi è piaciuta molto di dario foe di questo di questi libri avevo già letto quasi per caso una donna stessa cosa romanzo storico su cristina di svezia altro personaggio a cui dedicherò una lezione di storia in futuro prossimamente molto probabilmente va detto che come testo è molto leggero è divertente si legge con molto piacere l'unica cosa l'unico aspetto negativo il fatto che lo stile risulti in alcuni punti troppo artificioso soprattutto in alcuni punti in alcuni dialoghi che è come se i personaggi si trasformassero in libri di storia mettendosi a fare delle esposizioni di approfondimenti totalmente irreali in un linguaggio comune quindi questo è l'unico dettaglio negativo comunque di base io ve lo consiglio è una lettura molto piacevole se poi non conoscete questa storia e volete approcciarvi e magari conosce conoscere in una maniera raccontata meglio di come ho fatto io perché guardate veramente io mi schifo mi schifo quando parlo perché scrivo parlo in una maniera sgrammaticata questo è il mio problema quando decido di fare queste lezioni improvvisando le senza appunti è una cosa che devo evitare di fare allora ok a parte questo quindi consigliato con le dovute premesse poi un altro testo questa volta sempre un romanzo che sicuramente molti conosceranno qualcuno avrà sicuramente anche letto è il romanzo il medico di corte di per olof enquist autore che è venuto a mancare proprio di recente è venuto è morto il 25 aprile proprio di quest'anno quindi recente romanzo che potete trovare facilmente per la casa editrice iperborea ed è famosissimo sicuramente molti l'avranno già letto lo do quasi per scontato perché è famosissimo e poi da un punto di vista della filmografia come avevo detto è sulla vicenda soprattutto sulla storia sulla sull'affare amoroso sul triangolo amoroso tra che vide cristiano carolina e struensi ci sono c'è un'ampia filmografia la più famosa è quella del film royal affair del 2012 di nicolai arsell che ha nel ruolo del dottor struense meds mickelsen che è perché che per chi non lo sapesse è l'attore che ha interpretato annibal lecter nella serie tv annibal anche come detto io quella serie tv che era un capolavoro che è stata rovinata dalla dal fanservice non mi fate aggiungere altro bene ragazzi io penso di non poter dire altro mi sono mantenuto pure più breve del solito in genere sono rientrato un po nel mio minimo di 40 minuti beh c'era come vi ho detto ragazzi è stata una cosa molto improvvisata e ho trasformato una recensione in una lezione di storia a calcio d'angolo quindi proprio con il minimo degli appunti sono andato più che altro a memoria anche per questo secondo me mi sarà riuscita pure abbastanza male questa lezione quindi vi chiedo scusa vi chiedo perdono vi prometto che le prossime lezioni saranno più articolate avrò molti più appunti e quindi non non cincischierò non caccaglierò eccetera nel mente quindi io concludo qui e vado a cena vado a perché ho molta fame ok questioni sulla mia vita privata a parte io concludo qui il video spero che a parte la pessima esposizione vi sia piaciuto mettete mi piace se di se così è stato commentate ditemi la vostra se anche voi conoscevate questa storia se avete visto il film o avete letto i romanzi io in tutto questo a parte aver letto i libri di dario fo non ho ancora visto il film royal e non ho ancora letto il il medico di corte di però lo venquist quindi magari se voi avete letto il romanzo avete visto il film ditemi voi se vale la pena se sono belli come sono e come non sono iscrivetevi al mio canale per rimanere aggiornati sui miei prossimi video mettete mi piace alla mia pagina facebook seguitemi anche su instagram sempre se volete e noi ci rivediamo ad un prossimo video e ciao